...questa verità, grazie. Grazie, la parola al collega Gero Grassi. Sì, Presidente. Per ricordare insieme due vittime del 9 maggio 1978. Aldo Moro, Presidente del Consiglio, Presidente della Democrazia Cristiana, della tradizione cattolica o democratica, è Giuseppe Impastato, giornalista della tradizione comunista. Impastato era figlio di un mafioso, si ribellò alla mafia, tentò di lottare per la democrazia e il peggiore Stato tentò di farlo passare suicida. No, fu ucciso da Tano Badalamenti, uno dei capi della mafia di quel paese. Tano Badalamenti era anche un noto frequentatore del bar Olivetti che si trova in Via Fani, lì dove il 16 marzo fu rapito Aldo Moro. A distanza di 39 anni, il Partito Democratico, il gruppo del Partito Democratico, li ricorda entrambi perché i morti sono tutti uguali. Non serve la fama, il potere, la cultura, la ricchezza. Noi ricordiamo due vittime, una della mafia, l'altra vittima di un delitto di abbandono che continua ancora oggi e al quale noi ci ribelliamo. La ringrazio, collega Cosimo Latronico. Signor Presidente, la ringrazio dell'opportunità che mi dà, ma io suo tramite...